Ragazzi, finalmente eccoci qui prontissimi a iniziare la serie su Terminator Resistance! A starvista ragazzi, sono sempre io, TheGamerT800, e oggi ragazzi ci troviamo in questa nuova serie su Terminator Resistance! Finalmente ragazzi è arrivato il momento di partire con questa fantastica serie su questo fantastico gioco. Questo gioco lo avevo già adocchiato fin da subito da quando era uscito il primo teaser trailer e voi lo sapete bene perché ci avevo subito portato appunto la reaction video e l'analisi al primo trailer e poi anche ultimamente al secondo trailer. Quindi ragazzi, il gioco mi ha convinto da questi trailer e poi appunto essendo un fan accanito della saga di Terminator dovevo assolutamente portarvi i gameplay o comunque la serie. Come vedete qui ci troviamo nella mia dashboard della mia PS4 e appunto possiamo semplicemente cliccare su Terminator Resistance. Quindi facciamo avvia! Quindi ragazzi, mamma mia, guardate che cavolo d'immagine! Il T-800 con metà carne e metà appunto endoscheletro, appunto il teschio dell'endoscheletro, quindi fantastico! E partiamo in questa nuova avventura, vediamo un po'. Ok, Unreal Engine, sappiamo che questo gioco è realizzato con Unreal Engine, Riff Entertainment, Teyon, sento già la musica di sottofondo di Terminator. Questo gioco usa una funzione di salvataggio automatico, vabbè non spegnere il gioco quando l'icona appare. Oh ragazzi, questo deve essere il menu, quindi premi un tasto e è apparso il T-800, imposta il valore di gamma di modo che il teschio centrale sia appena visibile. Quindi 50, la mettiamolo a 60, facciamo ok. Oh raga, il suono è fantastico! Questa musica, questa soundtrack è quella che abbiamo sentito nel primo trailer, se non sbaglio, sì. Quindi, abbiamo, inizia una nuova partita, impostazioni, riconoscimenti. Vediamo le impostazioni. Allora, ecco la canzone ragazzi! Audio, allora, volume principale, effetti, musica. Magari la musica la abbassiamo un po', ragazzi. La mettiamo a 50, a 40. Effetti va bene, volume principale, ok. Mettiamo un po' più basso, anzi 80, così. Gameplay va bene. Ok, bellissima la soundtrack ragazzi, la musica è davvero fichissima! Mamma mia! Ok, credo abbiamo fatto tutto, vediamo. Applica, ok. Vediamo un po', ragazzi, che altro? Gameplay, comandi, video, penso vada bene. Ok, quindi ragazzi, possiamo uscire da qua e facciamo inizia nuova partita. Allora, scegli il livello di difficoltà. Ragazzi, non faccio mai il livello facile, scelgo sempre il livello normale, perché poi c'è anche difficile ed estrema, quindi oddio, sarà tanta roba. Quindi facciamo normale, facciamo seleziona. Oh ragazzi, lì in basso a destra vedete c'è il simbolo di Skynet, comunque, della Cyberdyne, comunque è il simbolo di Skynet. Mamma mia, ragazzi! Quindi stiamo attenti, seguiamo il tutto, vediamo che cavolo succede. Ok, son curioso ragazzi, son curioso di vedere che cavolo succederà, la storia e tutto il resto. E oltre anche il gameplay, eh. Ok, sta caricando, vediamo un po'. Non voglio schippare nulla ragazzi per il primo episodio, assolutamente, voglio tenermi tutto, appunto, anche gli screen, i caricamenti, di tutto ragazzi, voglio tenermi tutto e spero sia un fantastico gioco, anche se alcuni ne parlano un po' male, ecco, ad alcuni non piace di già, anche se io non ho visto ancora nulla, cioè a parte i trailer non abbiamo visto nient'altro ancora, quindi vediamo un po', raga. Ok, premio un tasto per continuare, non avevo visto che c'era la scritta lì sotto, perfetto, cliccato il tasto, non so se è in italiano. Ok, sento sparare, sento le armi laser, sento le armi laser, credo di T-800, no, non è in italiano. Il 29 agosto 1997, Skynet, un sistema informatico costruito per proteggerci, assunse il controllo di se stesso, e questo lo sappiamo. Ha visto l'umanità come una minaccia alla propria esistenza e ha deciso di agire, mamma mia, raga. Il giorno del giudizio, come lo abbiamo chiamato noi, ha segnato l'inizio della guerra contro le macchine. Oh, mamma mia, easter egg potente, la bicicletta. Quasi ogni giorno si verificano attacchi di Skynet, ma l'attacco di quel giorno fu qualcosa di mai visto prima, cioè le bombe atomiche. Oddio, il teschio, raga, e il T-800 che schiaccia col piede, appunto il teschio umano, mamma mia, mamma mia, fin qui ci siamo, raga, fin qui ci siamo. Easter egg potentissimi. Che succede? Oddio! Oddio, sopravvissuto, andiamo, andiamo. Dove sono gli altri? Dove il resto della resistenza? E che ne so io? La grafica sembra normale. Oddio, il T-800, raga! No! Che cavolo fa? Che cavolo fa? L'ha preso, raga! No! Lo distrugge, raga, con l'arma laser, con l'arma al plasma. Wow, raga! No, merda! Sta cercando di ucciderci? Ci sta prendendo, raga, il T-800! Guardate come cavolo è fatto bene, tra l'altro. Ci lancia via! Ascoltami, se vuoi sopravvivere, nasconditi di sotto. Non ho visto. Corri, presto! Ok, abbiamo la radio. Adesso, ragazzi, inizieremo il gameplay, mamma mia. Ci sono. Noi siamo Rivers. Ci sono qui soldato. So chi sei. Ok, è un estraneo che ci sta parlando. Ok, ragazzi, aggiunta una nuova missione. Fuga dalla Pasadena. C'è un punto di evacuazione dall'altra parte della città. Devo portarti lì. Ok, quindi, ragazzi, non abbiamo armi. La grafica sembra abbastanza bella, anche se alcuni si lamentano. A me sembra davvero bella, ragazzi. Tutto distrutto, fiamme, edifici distrutti. Guardate, pezzi di ferro che pendono. Bellissimo, raga, bellissimo. Ok, iniziamo ad andare di qua. Quindi, fuga da Pasadena. Devo seguire qui i riferimenti sulla schermata. Oddio, chi cavolo è, raga? Oh, l'Hunterkiller, raga! L'Hunterkiller, come nel film. Qui possiamo passare? O dobbiamo... Ok, ma mi dice... Ah, con X si salta. Perfetto, perfetto. Ok, premi il cerchio per accovacciarti. Perfetto. Facilissimo, ragazzi. Appena scendi in strada, gira a destra e corri più veloce che puoi. Ok. Quindi questa è la strada dove dobbiamo correre più velocemente che possiamo. Quindi mi lancio, raga, eh? Ok. Ok. Fa da solo. Terminator! OGT 800! Ora vai a destra. Ok, corri, premi L3 per uno sprint. Ok, raga, sto sprintando. Fili che vengono uccisi. Scena del trailer. Ok, raga, mamma mia. Sto sprintando, sto sprintando. Dobbiamo andare di qua. Porca miseria. Vai a sinistra su quell'edificio, in quell'edificio. Forza, forza, forza. Sto sprintando, raga. Eccoci. Oh! Esplosione, raga, esplosione. Non so che cavolo sia successo. Stai bene? Parlami. Sì, chi sei? Mi sono aggiornato a fuga da Pasadena. Non ha importanza, ora devi solo trovare un modo per andartene da lì. Ok. Cos'è questo? Tubo di metallo. Oddio, il tubo di metallo. Che è quello di Kyle Reese, eh? Tipo. Ok, premi, eh, triangolo per usare l'arma da mischia. Bello, raga. Allora, forse devo premerlo solo una volta. Ecco, sì, avevo preso tipo il pacchetto, eh, delle medicine. Ok. Ah, ok, posso fare con triangolo così, con il tubo. Perfetto. Quindi, raga, vediamo un po'. Devo tipo salire da qualche parte? Fatemi capire un attimo. Ah, devo andare di là, forse? Vediamo. Allora, qui è tutto chiuso, quanto sembra. Ah, ok, devo rompere qui sicuramente. Ecco, lo immaginavo. Ok, bella, bella sta cosa, raga. Perfetto. Oh, medikit. Tutto chiarissimo il gioco. Mi fa capire tutto. Che abbiamo qui? Risorsa di scambio. Risorsa di scambio. Prendiamo tutto, raga. Controlliamo bene la zona. Magari c'è roba dentro. A me piace esplorare e anche prendere roba. Chiuso, no. Ok, qui siamo saliti, raga. Vediamo che altro c'è di qua. Esploriamo il tutto. Ok, non sembra ci sia altro. Ok, dobbiamo andare qui. Sta passando un hunter killer aereo. Non farti vedere. Ok, quindi rimango qui. Mi metto qua, così non mi vede. Ok, raga, mi metto qua e non mi vede. Stiamo tranquilli. Perfetto. Fino ad ora tutto fantastico, raga. Vi giuro tutto fantastico. Sono emozionatissimo. Ok, il hunter killer è passato. Ci siamo nascosti. Facciamo uno sprint. Andiamo di qua. Scappiamo da tutto e da tutti. Ok, più avanti ho lasciato una cosa per te, quindi non fermarti. E chi si ferma? Ok, andiamo di qua. Raga, attenzione qui che abbiamo qualcosa. No, terminator non ce ne sono. Li stiamo scansando. Delle pentole vedo qua, ragazzi. Mamma mia. Ok. Occhiali ultra visione. Il visore ti permette di vedere i nemici attraverso le pareti e altri oggetti solidi. Entro un certo raggio. Quando è attivo non puoi utilizzare le armi e i tuoi movimenti si fanno più lenti. Aia, aia. Però può servirci. Premi R3 ora per attivare il visore. Ok. Fatto. Ecco il visore, raga. Fermati. T800 stanno pattugliando la facciata dell'edificio. Assicurati di non farti vedere. Certo. Raga, guardate T800 lì. Ok. Oggetto T800. T800 e c'è scritto salute 100%. Arma. Come si chiama l'arma? Eh, non riesco a vedere. R95 al plasma Skynet. R95 si chiama quell'arma. Ok. È sicuro. Quindi posso togliere questo. Vediamo. Lo posso attivare in qualsiasi momento ma divento più lento. Chiudo la porta. Ok. Ok. Missione aggiornata. Ok. Perfetto. Raccogli la pistola e le munizioni. Raga, la pistola. Bellissimo. Le munizioni. Medikit. Ok. C'è un contatto di ventilazione nascosto. Ok. Va bene. Eccolo qua, raga. Rimuovi. Raga, fino ad ora mi piace tantissimo il gioco. Non siamo neanche andati molto avanti, eh. Abbiamo la pistola, tutto in prima persona. L'abbiamo capito. Ecco, vacciati. Ormai l'ho capito. Cioè. Ok. Tieni premuto giù per accendere e spegnere la torcia. Sembra tipo uno di quei giochi horror in prima persona. Fantastico. Ok, raga. Missione aggiornata. Fuga da Pasadena. Segui la strada. Allora, intanto finiamo di accovacciarci. Ok. Andiamo veloci, ragazzi. Ok. La pistola la alza mentre corriamo. Ok. Devo andare di qua. Merda. Indicatore di rilevamento. Indicatore di rilevamento mostra i livelli di rilevamento visivi e uditivi delle unità Skynet in tempo reale. Quando diventa rosso i nemici vicini sanno che sei lì. Va bene. Facciamo indietro. Ragni spie nei paraggi. Tieni pronta la pistola oppure agire lì di nascosto se vuoi evitare di fare fuoco. No, io voglio fare fuoco. Voglio spararli, raga. Dove sono? I spider tank, diciamo. Ok, raga. Eccoli là. Eccoli là. Vediamo. No, io voglio togliere, ragazzi. Voglio fare così. Oh, distrutto, raga. Mamma mia. Oh. Iniziamo a usare la pistola, raga. Iniziamo a distruggerli. Ok. Ce ne sono degli altri? No. A quanto pare no, raga. Non c'è nessuno. Aspetta, che cosa possiamo fare? Cerca. Ah, i rottami. Ok. Tipo, allora, prendi, prendi, prendi. Ok. Possiamo raccogliere dai rottami la roba, raga. Cioè, dalle cose distrutte i rottami. Ok, perfetto. Chip di Skynet. Ok. Parti elettriche. Tanta roba, raga. Tanta roba. Ok. Vediamo. Ah, dove mandare lì? Uccidi o evite ragni spia. Ah, ecco. Attenzione, attenzione. Distrutto. Fatto. Mamma mia, raga. Io voglio combattere contro i T-800 più che altro. Cerca. Prendi, prendi. Attenzione. Oh, raga. Fino ad ora stiamo combattendo contro i ragni soltanto. I T-800 saranno molto più tosti, eh. Oh, raga. Perfetto. Ok. Ora passa per quel garage. È importante. Certo, lo facciamo subito. Cosa c'è lì? C'è nessuno? Ok, raga. Controlliamo se c'è roba qui. Qua che cosa c'è? Vedo della roba che si illumina. Sostanze chimiche. Ok. Magari per creare delle bombe o qualcosa del genere. Chiudiamo le porte dietro di noi, raga. Ok. Non ho delle fobie, ma meglio chiudersi dietro, se no arrivano i nemici. Ok, apri. Perfetto, abbiamo raggiunto il garage. Chi c'è? Jennifer dice, non abbiamo tempo, non voglio andare con te. Lo so, ma non possiamo rimanere qui. Jennifer dice, ma chi va là? Chi è questa? Ah, grazie al cielo, sei dalla Resistenza. Visto Patrick, ci aiuterà. Chi è questo ragazzino Patrick, poi? No, ci beccheranno. Per favore, deve aiutarmi. Il mio fratellino non vuole darmi ascolto. No, non voglio andare. Lasciami in pace. Oddio. Litigi tra... non so. Ho detto di lasciarmi in pace. Allora, ah, posso fare delle scelte, raga. Attenzione, posso fare delle scelte. Allora, Patrick dice, ho detto di lasciarmi in pace. Ti proteggerò, smetti di piangere, ragazzino. Ti proteggerò, facciamo scegli. So che sei spaventato, ma non possiamo rimanere qui. Proteggerò te e tua sorella, ok? Ok. Noi siamo Jacob Rivers, ragazzi, ve lo ricordo. Quindi lo proteggiamo, questo ragazzino. Mi chiamo Jennifer, comunque. Ho sentito che qui vicino c'è un punto di evacuazione. Sì, lo so, la mia gente lo sta attrezzando. Stiamo andando là, vi ci porterò. Ok, perfetto, raga. Abbiamo la pistola. Dov'è il resto della resistenza? Che ne so. Non lo so, sono venuto qui a cercarli da solo. Ok, raga, controlliamo. Ok. Perfetto, va bene. Non c'è niente qui. Allora, raggiungi il parcheggio. Attenzione, hunter killer. Togliamoci, raga. Ok. Allora, vanno loro avanti a me? Ma che cavolo? Ok. Di qua? Ok, seguiamo lei a sto punto. Pensavo che la Pasadena fosse sicura. Lo era finché tutti i soldati sono stati allontanati dalla zona. Ok, sì, se sono stati allontanati ci sono più T-800 e niente soldati, no? Ok, raga. Mamma mia, sento esplosioni, sento roba. Spero vi stia piacendo, raga, l'episodio, comunque, il video. Tanta roba. Ok, controlliamo bene qui. Non è che mi appare qualche T-800 di nascosto, no. Terminator, giù, giù. Manco a dirlo, raga. Cioè, l'ho detto così. Che sta succedendo? Il T-800, raga, mamma mia. Ok, ci passa da accanto e non se ne accorge. Sentite che cavolo di rumore che fa. Mamma mia, raga. L'altro T-800, l'altro ancora, sono tre. Merda. Merda, no, non controllare. Oddio, che fa? Metta la mano sull'auto. No. Va a controllare dentro, mamma mia. Rimanete giù. Mamma mia, raga, porca miseria. È proprio vicino. Non succede nulla se non ci facciamo accorgere, appunto, che siamo qui. Ok, ok, raga. Tanta, tanta roba, eh. Se ne sono andati. Perfetto, perfetto. Ok, raga. Ok, andiamo di qua. Scappiamo. Belli suoni, raga, tra l'altro. Erin ha detto che queste attacche avvengono più spesso con l'avvicinarsi della linea. Erin ha visto la linea di annientamento? Vedere, è stata dall'altra parte. Ha provato ad avvisarci, ma non gli abbiamo dato ascolto. Ok, raggiungi il parcheggio, dice. Ok. La linea di annientamento. Che cavolo sarà, ragazzi? Dove stanno rinchiusi tipo i civili, vengono distrutti, vengono uccisi? Ok. Dai, dai, forza, forza, forza. Oh, gentile da parte vostra, raggiungerci. Finalmente. Dov'è tuo padre? Questo è Colin. Non viene. Danazione, dia a Ryan che dobbiamo andare. Subito. L'M4, ragazzi, ha questo in mano. Ok. Ok, raggiungi il parcheggio, ci dice. Ok, già stanno andando lì quelli. Cioè, non è che mi avvisano. Lo so, lasciami pensare. Jennifer, per fortuna sei qui. Ok, chi è questo tizio? Mi sono aggiornato a fuga da Pasadena. Parla con Ryan. Questo è Ryan. Ok, parla. Vediamo. Oh, sei della resistenza. Grazie per aver protetto Jennifer e Patrick. Ma, di nulla. Dovere. Ho parlato con te alla radio? No, non credo. È da un po' che non riesco più a comunicare con nessuno. Ok. Ma, ascolta, so che Colin vuole che andiamo, ma non me la sento di lasciare indietro qualcuno. Ok. Jennifer, è appena arrivata e tu hai detto che hai sentito qualcuno alla radio. Potrebbero esserci altre persone là fuori. Potrebbe essere John Connor alla radio. Non credi che dovremmo? Non ho letto. Insomma, sei della resistenza. È compito tuo. Allora, raga, altra scelta. Le tue scelte contano. C'è scritto a destra. Insomma, sei della resistenza. È compito tuo. Vado a cercare altri sopravvissuti. Facciamo scegli. Ok. Andiamo a cercarli. Bene, io preparerò l'autobus. Prima di andare vai a parlare con Erin. Potrebbe rimediarti un medikit. Un medikit, dice qui. O prendi questo. Probabilmente ne avrai bisogno. Cos'è? Cosa mi ha dato? Oh, Luzi, raga. Luzi, del Terminator del primo film. Oddio. Mi ha dato anche le munizioni. Controlla le zone contrassegnate. Aggiunta nuova missione. Altri sopravvissuti. Ok, raga. Perfetto. Questa chi è? Parla. Chi è questa signora? Ryan mi ha detto che hai un medikit per me. Quindi adesso è lui che decide chi può avere cosa? Una vecchia incazzata. Se ne hai davvero bisogno, puoi prenderlo. Le nostre risorse sono scarse. Preferirei tenerlo per una vera emergenza. Dimmi allora, ti serve davvero o no? Ehm... No, dai, facciamo no, raga. Sopravviverò anche senza. Mi fa piacere, sei più coraggioso di Ryan. Abbiamo un cuore ogni volta che facciamo una bella azione. Comunque, raga, fantastico Luzi. Mamma mia. Ok, controllo le zone contrassegnate. Lo facciamo subito. Ok. Quindi dobbiamo uscire da qua, suppongo. Ok. Qui non vedo nemici. Andiamo a controllare le zone contrassegnate, ragazzi. Ok. Ok. Andiamo di là, raga. Almeno il segnalino ci dice di andare di qua, no? Mi spero si vada di qua. Quanto pare sì. Oh, attenzione, raga. Oh, mamma mia, ragazzi. Ragno spia distrutto con la mitragliatrice. Fantastico. Prendiamo, ovviamente, la roba che ci può dare. Ok. Pezzi di metallo, risorse di scambio, il chip danneggiato, praticamente. Munizioni di piccolo calibro. Prendiamo tutto. Peccato, ragazzi. Un soldato della resistenza, qui. Ci sono... Oh, c'è una torretta lì, gigantesca. Ragno corazzato. Porca miseria, raga. Che altro c'è di qua? Il ragno spia c'è di qua. Attenzione. Ci conviene entrare qui dentro, raga, e distruggerlo. Attenzione, attenzione. Attenzione. Distrutto. Fatto, raga, perfetto. Ce ne sono altri? No, qui no. Cerca. Ok. Parti elettriche, pezzi di metallo, chip di scannet. Ok. Perfetto, raga. Ci mettiamo così, accovacciati. Lì c'è una bella torretta. Mamma mia. C'è nessuno? Dice reverse. Ok, non mi dica che la torretta entra qua dentro, no. Dove devo entrare io? Ah, ok, qua c'è qualcosa. Aspetta, tessuti. Magari per qualche giubbotto o qualcos'altro. Ok, raga. Perfetto. Controllo le altre zone contrassegnate. Dove è la torretta? Posso spararla? Vediamo. Proviamo, raga, proviamo. Attenzione. Colpo critico, c'è scritto. Ragno corazzato. Attenzione, ragazzi. Con l'Ugi lo stiamo facendo fuori. Porca miseria, raga. Distrutto. Mamma mia. Con l'Ugi, vi rendete conto? Con l'Ugi, raga. Mamma mia. Cosa possiamo avere da questo? Cerca. Ok, munizioni di medio calibro. Parti elettriche. Pezzi di metallo. Chip di Skynet. Quanta roba, raga. Quanta roba si può avere. Ok, ok. Vediamo subito. Ok. Là c'è l'altro ragno. Possiamo andare a controllare prima quella zona e poi questa. Vabbè, intanto il ragno non è che sia molto forte. Ok, saltiamo qui. Apri. Il ragno dov'è? Ok, di qua. Non so se si può andare. No, questo è il bagno. Qua c'è una porta. Oh, merda, raga. Qua si apro. È finita. Oh. No, vabbè, si distrugge facilmente, raga. Pezzi di metallo, risorsa di scambio. Dobbiamo prendere sempre tutto, raga. Ci servirà qualcosa, sicuramente. Ok. Oh, qua c'è una bella casa. Ok. Controllo le altre zone. Ora non posso andare sopra, raga. Dobbiamo sbrigarci e andare a controllare le altre zone contrassegnate. Ok. Quindi usciamo da qui. Perfetto. Qui dice che non c'è niente. Sento i laser dei T-800 da qualche parte. O sono dei suoni messi così o non lo so. Ok. Chi è? No, nessuno. Ok, 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 raga. Dobbiamo controllare qui. Ci sono nemici? No. Quanto pare no. Piuttosto tranquilla sta zona. Cos'è qui? Pezzi di metallo. Si trova tanta roba, ragazzi, in giro. Come Mad Max. Controlliamo di qua che non siamo ancora andati. Di qua. Ecco. C'è nessuno? Chi va là? C'è Laura? Ok, raga. Parliamo. Questa è Laura, ok. Sono venuto a prenderti. C'è un punto di evacuazione non lontano da qui. Devi andarci e subito. No, non vado da nessuna parte. Hai visto cosa c'è là fuori? C'è la guerra. C'è quel ragno gigante. Ci prenderà. Devi distruggerlo. L'abbiamo già fatto, raga. Me ne sono già occupato. È sicuro adesso. Oh, grazie. Grazie mille. Ora sta più tranquilla. Ok, posso aprire adesso? Ah, no. Riescerà ad aprire. Ok. Non vedo nessun altro. Mi dirigo verso di te. Mi sono aggiornata altri sopravvissuti. Torna al punto di evacuazione. Raga, torniamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Perché poi potrebbe essere che il video dura tanto, ecco. Perché le missioni magari sono una collegata all'altra. Quindi seguiamo Laura. Proteggendola. Non penso ci siano nemici da queste parti. No, non penso. Tutto più o meno sicuro. Ci siamo già passati da qui. Ok, ok. Bello sentire i suoni dei laser. Li vedo, ci siamo quasi. Ok. Mi sono aggiornato altri sopravvissuti. Respingi l'attacco di Skynet. Lo facciamo. Respingiamo l'attacco di Skynet, ragazzi. Ok. Spariamo. Ok, attenzione. Attenzione, raga. Respingiamo l'attacco di Skynet. Ripariamoci. Ok, attenzione. Ripariamoci sempre. Ok, ricarichiamo la mitaglietta. Luzi. Mamma mia, raga. Ok, distrutto quello. Esplode. E qui ci sono dei piccoli droni, raga. Che si distruggono molto, molto facilmente. Guardate che roba. Ne arrivano altri, dice. Ok. Rilevato. Andiamo di qua a sto punto. Mettiamoci qua. Ah, i droni, raga. I droni in cielo. Guardate questi droni. Drone spia. I droni spia di Skynet. Mamma mia, raga. Ok. Distrutti. Perfetto. Jennifer, ci sei? Ci è mancato poco. Trofeo dorato, raga. Ok. Oh, raga. Attenzione. Arriva Jennifer con lo scuolabus. Vi ne date conto? Mamma mia, raga. Mamma mia. Ora ce ne andiamo di qui. Ok, andiamocene. Mamma mia, raga. Con lo scuolabus. Porca miseria. Ok, la musica di sottofono di Terminator. Mamma mia, raga. Quella tipo del secondo, del primo. Ok, nascondiglio. Usi condotti come scorciatoie per trovare le posizioni nascoste. Ok. La linea di annientamento è la linea che separa la vita dalla morte. Composta da un esercito di Terminator, le più recenti macchine di morte continuano ad avanzare. Il suo scopo è l'estinzione della specie umana. La linea di annientamento. Ce la ricorderemo, raga. Ce la ricorderemo. Ah, è già finito il caricamento. Sono io che devo cliccare. Ecco. Premio il tasto per continuare. Facciamo X, ad esempio. Me ne scordo di questa cosa, raga, ogni volta. Ok. Dove stiamo andando? Ok, siamo in tutt'altra zona. Cioè, vedo degli alberi. Mark sta per perdere i sensi. Dovremmo fermarci tra poco. Va bene, come dici tu. C'è anche la vecchia con noi. Ok, c'è Patrick. Non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Ryan e quella è Erin, la dottoressa del gruppo. Ah, la vecchia e la dottoressa. Ok. Jennifer è una saccheggiatrice e Colin, beh, chiede direttamente a lui cosa crede di essere. Mi chiamo Jacob, sono un soldato della Resistenza. Divisione Pacifico. Pacifico. Sei parecchio lontano da casa. Che fai da queste parti? Tutta la mia divisione è stata spazzata via, cavolo. E sto cercando di mettermi in contatto con la divisione 2, ho letto. Quindi è vero, la linea di annientamento sta arrivando? Non era la linea di annientamento, era qualcos'altro. Cioè? Che cos'era allora? A essere sincero, non ne ho idea. Oh, che sta succedendo? Ah, viaggio finito, gente, ok. Siamo arrivati, quindi, al nascondiglio. Togliamoci dalla strada, accosta lì. Ok. Sarà questo il nostro nascondiglio, credo, raga. A sto punto credo di sì. Ok, ok. Abbiamo un po' di vantaggio, quindi non perdiamo la testa. Farò la ronda per quei maledetti ammassi di latta. Mamma mia, è incazzato lui. Erin, pensaci tu a Mark, io vedo cosa posso fare per l'autobus. Forse per nasconderlo, intende? Jacob, potrebbe volerci un po'? Potresti dare un'occhiata dentro e assicurarti che sia sicuro? Certo, lo possiamo fare tranquillamente. Ok. Jennifer, mi daresti una mano? Ok. Ci abbiamo anche Jennifer, Erin, Colin, Patrick. Missione completata, altri sopravvissuti. Entra nell'edificio. Ok. Nuovo livello esperienza 2. Nuovo punto abilità. Ok. E come si fa a mettere? Magari con tasto opzioni, forse. Aggiunta nuova missione, le regole della sopravvivenza. Hai ottenuto un punto abilità. Ok, escono scritte... Un sacco di scritte, appunto. Facciamo tasto opzioni, proviamo. No. Tasto centrale deve essere. Sì, ecco, missione, inventario, abilità. Allora, inventario, raga. Abbiamo l'uzi e, appunto, la pistola. Guardate che roba. Uzi, pistola, ok. Abilità, invisibile. Rilevamento visivo ridotto del 10%. Armi. Infligge un danno maggiore del 25% usando le armi standard. Infligge un danno maggiore del 10% usando le armi al plasma. E poi esplosivo. Infligge un danno maggiore del 25% usando le granate. Disarma le trappole laser nemiche per 6 secondi. Quindi, ragazzi, direi di fare questa qui delle armi. Armi 1. Facciamo attiva. Vuoi attivare questa abilità? Ok. Attivata. Perfetto. Avevamo solo un punto abilità. Quindi, ok. Scienza. Ho letto. Scienza e sopravvivenza. Potevamo ancora fare altro. Ma mi sa che possiamo fare altro. Vediamo attiva. Dice. Aspetta. Possiamo fare attiva anche questo. No, non hai il punto abilità. Ok, ok. Perfetto. Volevo essere sicuro. Archivi. Missioni primarie. Altri sopravvissuti. Fuga da Pasadena. Ok. Va bene. Sto vedendo un po' di roba, raga. Ok, ok. Ok. Perfetto. Rimuovi dallo slot. Scarto oggetto. Possiamo scartarli o fare altro. Oggetti. Qui ci sono i chip. Poi potremmo costruire sicuramente qualcosa di particolare, raga. Le missioni, ok. Le regole della sopravvivenza la facciamo nel prossimo episodio. E ragazzi, noi ci troviamo tipo nel nostro alloggio, credo. Credo, ragazzi, che se entriamo qui, appunto, in questa porta, inizia la missione, le regole della sopravvivenza. E non voglio, appunto, iniziare l'altra missione adesso. Voglio portarvela nel prossimo episodio. Ragazzi, che dire. Per ora il gioco mi sembra davvero fantastico. La grafica potrebbe lasciare un po' a desiderare. Però almeno i T-800, o comunque, come dire, gli spider spia, i ragni spia, come si chiamano, i droni spia, sono fatti davvero bene come modelli. Quindi, al di là, appunto, della grafica, dobbiamo vedere anche la storia. Quindi, diciamo che i modelli dei nemici sono fatti bene. I modelli dei soldati, comunque, vanno abbastanza bene. E la grafica generale lascia un po' a desiderare. Potevano farla un po' meglio. Non lo so, ragazzi. Non so quando è stato realmente sviluppato questo gioco. Magari parecchi anni fa potrebbe essere. Quindi, non lo so. A me, ragazzi, piace. Abbiamo fatto già la prima missione. Noi siamo Jacob Rivers, come vi ho detto. E, appunto, stiamo facendo già un po' di missione. Abbiamo distrutto i droni spia. Abbiamo distrutto già i ragni spia. La torretta. I T-800 non li abbiamo ancora toccati. Quindi, spero, nel prossimo episodio, di andarli un po' a distruggere. E siamo arrivati qui, in questo nascondiglio. Abbiamo conosciuto Patrick. Abbiamo conosciuto Ryan. Qui abbiamo Jennifer. Erin, che è la dottoressa. E abbiamo, appunto, anche Colin. Quindi, ragazzi, tanta, tanta roba. E vedremo che cosa succederà nel prossimo episodio. Aspetta, questo è Patrick. E quello lì chi è, allora? Aspetta. Chi è questo qui? Ah, non è Patrick questo. Ok, Patrick è il ragazzino che è andato lì. E qui c'è un personaggio che ha bisogno di aiuto lì dentro, ecco. Quindi, raga, continuiamo nel prossimo episodio. Il gioco mi sta piacendo. Quindi, fatemi sapere assolutamente la vostra sotto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, di questa missione. Se vi gasa sto gioco e tutto il resto. Quindi, fatemi sapere un po' la vostra. E quindi, niente, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like. Condividete. Iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!